Perla Vatiero, in lacrime, cosa deve fare? In questo video affrontiamo le difficoltà di una giovane donna, come appunto Perla. Sono giorni emotivamente difficili per la ragazza, tanto che ultimamente la ragazza è scoppiata tante volte a piangere. La ragazza ha detto che è stanca di giustificarsi per la sottopressione e si deve giustificare per ogni cosa e questa situazione la fa stare male. Dopo l'ultima diretta, in cui, come al solito, l'attaccano per l'amicizia che la ragazza ha con Alessio Falsone, Perla ha incominciato a singhiozzare sotto le coperte, piangendo talmente tanto che, pensate, Greta e Sergio hanno chiamato in aiuto Letizia, la sua amica, che gli ha dato un semplice consiglio. Non deve farsi condizionare dal parere esterno, anche se si trattasse di Mirko Brunetti. La ragazza deve lasciarsi andare perché, in fondo, la vita è la sua. È lei a decidere cosa fare per il suo bene e non il grande fratello o gli autori o nessun altro. Nessuno si deve far condizionare. Ognuno è libero di scegliere cosa fare. Certamente per una giovane ragazza come Perla, sotto i riflettori 24 ore su 24, è tutto molto più complicato. E voi come la pensate? Cosa deve fare Perla? Scrivete qui sotto il video e mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.